Un luogo bello e incantato che trasmette storia e tradizione, questa è la Toscana. Eh sì, guardi, questo è un luogo dove c'è spiritualità, c'è silenzio e c'è energia ed è quella che anche aiuta a lavorare, a studiare in questi luoghi. Toscana in cammino, questo è il titolo di un convegno ospitato dall'abbazia di Spineto nel comune di Sarteano, la regione toscana ha promosso questo incontro al quale hanno partecipato anche le regioni del centro Italia, le regioni confinanti per costruire insieme un cammino di valorizzazione turistica dei percorsi che ci possono essere nelle regioni del centro Italia. Cammini che non hanno i confini regionali, cammini che travalicano questa delimitazione amministrativa e che recuperano la nostra storia attraversando i nostri paesaggi. Queste filiere di continuità devono trovare modo di essere messe in sicurezza, di essere un prodotto turistico promovibile e codificato. La carta di Sarteano che oggi proponiamo individua proprio questo, le finalità, gli obiettivi politici, il progetto nel suo insieme e poi gli altri ambiti che sono altrettanto importanti, le modalità, la disciplina che ne determinerà la tutela e la conservazione, l'ampliamento, la codificazione, la sicurezza che deve essere garantita per chi si avvia in un percorso e sa che troverà adeguata segnaletica, che troverà punti di fuga, che troverà un punto di ristoro e poi in ultimo l'ospitalità, il sistema dell'accoglienza dell'ospitalità che stimola al recupero di tante eccellenze che sono ancora fortunatamente presenti nel nostro territorio e stimola anche una nuova economia. L'obiettivo di oggi a Spineto è di far tesoro dell'esperienza della via francigena che ormai è un'esperienza pluriennale, almeno una decina d'anni e che è un'esperienza positiva soprattutto in regione toscana ma fortunatamente non solo in regione toscana. Ormai l'ordine di grandezza delle persone che camminano o in bicicletta sulla via francigena è dell'ordine delle 40-50 mila, non solo in regione toscana, ma ovviamente in tutto il tratto della via francigena. Questa esperienza, questo lavoro, perché tutte queste persone non è che vengono casualmente, che è stato fatto, oggi intenzione di regione toscana ed è l'Associazione Europea delle Vie Francigena che ho l'onore di presiedere, l'obiettivo è quello di scambiare questa esperienza in modo che venga trasmessa anche alla rete degli itinerari nazionali e regionali, quindi uno scambio di esperienze partendo da ciò che si è fatto ma con l'intento di rafforzare l'intera rete.